Siamo arrivati a questo punto e a questo punto diciamo che si cambia pagina assolutamente. Ora le decisioni come le prenderete? Decideremo noi tre, le prenderemo come gruppo e andremo a voti per questa strada. I numeri, la maggioranza però lì ancora? 9 contro 8, se a loro va bene questa maggioranza va bene anche per noi. Abbiamo deciso di abbandonare la maggioranza per spirito di solidarietà visto che l'assessore Fonagere è stato epurato per ripicca e non riteniamo giusto. Noi siamo una squadra e dobbiamo rispettare anche i cittadini che ci hanno votato. La giunta Saldana quindi ha sbagliato? Sì, la giunta ha sbagliato. Doveva avvisare la cittadinanza visto che siamo stati elettri con i voti del popolo e anche i consiglieri di quello che si stava facendo.